Non volevo uccidere quello che Raffaele Grieco ripete ormai da giorni nel carcere di Castronio a Teramo dove è detenuto in custodia cautelare dal 6 maggio con l'accusa di aver accoltellato mortalmente il 67enne pasticcere pescarese Gian Domenico Orlando lo ha ripetuto anche questa mattina davanti al magistrato titolare dell'inchiesta Rosangela Di Stefano nel corso dell'interrogatorio chiesto dal suo legale Paolo Marino. Grieco che si era chiuso nel silenzio fin dal pomeriggio in cui è stato catturato dai carabinieri a Pineto ha voluto spiegare il perché di tutto quell'odio e quel rancore nei confronti della famiglia Orlando titolare dell'omonima pasticceria con annesso laboratorio che si trova proprio sotto l'abitazione nella quale Grieco abita con la madre in via Buozzi a Pescara. Grieco ha riacquistato la normale lucidità, ha ricostruito tutta la vicenda ma non soltanto quella del giorno in cui si è verificato l'episodio ma soprattutto degli anni passati e delle problematiche che in quel condominio erano in sorte per l'impossibilità del riposo notturno. Tutto questo ha scatenato una serie di reazioni che poi hanno portato a un evento non prevedibile nemmeno dal Grieco. Il Grieco ha ribadito di non avere avuto nessuna intenzione di ledere mortalmente ma soltanto di ferire che il coltello era portato normalmente nella tasca posteriore del pantalone per motivi di sicurezza personale operando lui nel settore della sicurezza dei locali e che le condizioni psicologiche sue e della madre specialmente in questi ultimi anni erano diventate veramente labili e devastate dalla impossibilità assoluta di un riposo notturno che come tutti sappiamo è necessario per poter svolgere una vita di relazione normale. Per ora l'avvocato Marino non ha intenzione di fare istanza di scarcerazione per il suo assistito però la difesa ha chiesto la perizia psichiatrica e altre analisi sulla rumorosità del laboratorio di pasticceria degli Orlando. Il racconto di Grieco sul come si è arrivati all'omicidio contrasta però con le testimonianze e le denunce della famiglia Orlando che si sentiva minacciata secondo il GIP del Tribunale di Pescara Maria Michela Di Fine che ha firmato la custodia cautelare questi elementi uniti alle modalità dell'omicidio e alla personalità di Greco definita a pericolosità sociale denoterebbero una volontà omicidia aggravata dalla premeditazione dei futili motivi.